Musica Ok, benvenuti, quinto episodio, ultimo prima della grande battaglia, prima del grande deathmatch Ci siamo messi abbastanza bene, se vi ricordate, siamo quasi full ferro, anzi, adesso ci facciamo tutta l'armatura, a sto punto Sì, questo appunto è l'ultimo episodio, wow Ok, allora, adesso come abbiamo detto l'anno scorso, ci spingeremo anche verso il centro, quindi questa direzione qua E vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro, oltre magari un altro villaggio, anche se molto improbabile, visto che ce n'è uno lì Però, probabilmente, magari se abbiamo fortuna Vai, allora, ti do il corpetto, tieni Aspetta, prendo un altro po' di legno che magari serve, vai, vai, grazie mille Intanto metto a cuocere anche l'oro L'oro, così esce Allora, fammi vedere un secondo, c'è qualcosa di bello qua, non vedo assolutamente Ah, intanto prendiamo tutta la roba qua, che il legno ci potrebbe servire Sì, io lancio giù tanto la roba che non mi serve perché è davvero tanto Alla fine la mela non me l'ha data, questa infame, e vabbè Verso laggiù, verso ovest Intanto io sparmo un po' di eserci perché non si sa mai, potremmo... Vabbè, intanto io prendo l'oro Io faccio anche le piume ci mancano, non avevo pensato Vabbè, ma aspetta, i polli prima li ho visti Aspetta un secondo, io prima li avevo visti No Mi sa che all'arco, questo è un problema Perché mi sa che all'arco non riusciamo, almeno che non abbiamo proprio fortuna tantissimo qua Non riusciamo a fare l'arco Ok, cinque pezzi d'oro tieni Devo farti già la mela La crafto, ma aspettiamo Sì, sì Ok, direi di spaccare la craft Eh, no, la fornace Anzi, devo fare anche un piccone io Anch'io me lo faccio Perché l'ho finito Dov'è, 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 legno, legno, legno Eccolo qua Anche perché almeno ci avviciniamo anche verso il centro E vediamo se, cioè, prima ci arriviamo Magari siamo più avvantaggiati Ok, butto anche questa Però la crafting table me la devi ridare Grazie mille Ok Ci andiamo con calma qua Perché potremmo subire da una maniera Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa di interessante Intanto mi devo mettere anche le coordinate un secondo qua Allora Allora, 0, 0 è esattamente là Vediamo se intorno a 0, 0 c'è qualcosa di carino Intanto, ok, se dietro Vediamo un po' qua c'è qualcosa No, non c'è nulla Ma almeno dei polli Cioè, ho due frecce, eh Però, insomma Almeno due frecce Meglio che niente Eh Comunque, insomma, non è proprio Cioè, la squadra gialla Non è messa benissimo Cioè, dal punto di vista Sì, diciamo La squadra rossa Ne ha soltanto uno La squadra rossa Ha avuto con il culo del bug Che li ha raffullati Anche se ha parecchia vita Però Il centro dovrebbe essere quello lì Dove c'è la foresta Forestina lì Quindi io vorrei aggirarla un secondo E andare in questa direzione Ma qua c'è qualcosa Ah, un acqua Ok Già, ci siamo scordati di prendere della lava Esatto Ci serviva Però Cioè, non è abbastanza ferro Vabbè, ma c'ho comunque un secchio io C'ho Ah, ok Vabbè, per il momento prendi l'acqua Che, vabbè L'acqua ce l'ho già L'acqua ce l'ho già nel secchiello Ok Per un P che stiamo perdendo Ci può anche servire quella Eh, sì, sì In qua non c'è nulla Magari ci dobbiamo dare lava in superficie Anche se prima la avevo vissuto I salieti Ah, brutta cosa Brutta cosa Oh, qua c'è qualcosa C'è una grotta Sì No È ancora un laghetto E allora Quanti laghetti Dove andare Dai Un villaggio Un qualcosa Che ci potrebbe aiutare Non vedo assolutamente Nulla Assolutamente Nulla Esatto Lì c'è un altro canyon Quello sì Quello è un canyon Ecco magari Però è notte Eh, lo dobbiamo rischiare un secondo Lo dobbiamo rischiare Dobbiamo andare un po' in giro Intanto A prendere Ammazzare dei ragni Ammazzare Ah, sì Tanto qui Vabbè Se no i ragni Visto che rimangono in vita Aspettiamo più 20 giorni Sì, però È una perdita di tempo Perché è un penultimo episodio Ho un pollo Ok, intanto il pollo ce l'abbiamo Quello M... Venga qua Oh mio Dio Colpito il pollo Mi stava crashando tutto Cosa è successo? Mi ha dato una piuma? Sì Ok, la carne non mi serve Oh, qua è piena di pollo Oh, una stringa mi ha dato What? Ma Cosa? Buona Ok, la prendo tutta la vita Cioè Abbiamo due string... No, una Ah no, aspetta Quella che ho buttato io Ma allora Ah, ce l'avevi già Ah, io comunque ho 6 piume L'ho appena trovata Ok, stiamo attenti Aspetta, io mi devo mettere anche la spada nell'inventario Allora Eh, devo mangiare anche un po' di roba io Perché se no qua muoio male Allora, stiamo attenti che qua adesso spawna di tutto Proprio tutto tutto Ok, full cibo Eh, altri polli Dai Ecco uno zombie Lì c'è un enderman Eeeh Volevo vedere qua intorno Cioè Oh, quanti polli però Oh, la lava La lava, sì Monte gigante con della lava Eh, allora devo mandarci sopra Perfetto Che rivalta la mucca Quindi, eh, lo so Tesa sta facendo l'enchanting table Eh, probabilmente è così Qua c'è una grotta Vabbè Direi di andare a prendere Sì Andare a prendere quella lava La cosa più importante al momento Almeno abbiamo una rama Hunter, enchanter Eh No, 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 no Pericolo, pericolo Pericolissimo Eh, qua ci stiamo Ci stanno circondando Oh, c'è un altro po' Lo muori Allora Non sei morto con una spadata, ok Eh, sì Eh, qua è brutta Direi Allora, dire di Scendiamo in una grotta Proprio random Scendiamo in una grotta E appena diventa giorno Anzi, direi di fare così Sì Appena diventa giorno Torniamo su Andiamo a prendere la lava E poi ci incamminiamo verso 00 C'è uno zombie Quindi, aspetta un secondo Eh, signor zombie Allora Oh, quanto sei veloce No, aspetta Non puoi essere così veloce però Ok, è morto Boh, perfetto Qua Che però per adesso Sento dei rumori Ok, le entità come siamo messi qua 0, 0, 0, 3, 6, 8 Eh, ok In questa direzione ci sono delle entità Però Non mi fido Ok, qua sotto c'è una grotta Ah no La stessa di prima Eh, ci conviene scendere di nuovo Proviamo così a caso La proviamo Eh, non saprei cosa fare 9 minuti Quindi abbiamo altri 6 minuti Sì, dai Scendiamola così E dopo ci ti trasporta direttamente? No, no Bisogna andarci noi Bisogna andarci Ah Quanto siamo? Vabbè, 158 Meno 3,95 Vabbè Non lontanissimi, dai Ci si dovrebbe fare tranquillamente Ok, qua Ho finito le torce Ancora Eh, ne ho due io Quindi Ne ho 8 adesso Eh, lo fa però Io non dico niente Sto zitto Esatto Sono zitti Volete giorno per peee Ah, hanno messo giorno eterno Perfetto Perfetto Allora ci conviene uscire Eh, sì Mi sa di sì Guardo un secondo Chiamo le masuli di raggi in giro Volevo vedere se Intanto esco anche di qua A regola Ci dovrebbe Però le torce Mettimile qua Già Possiamo craftarci Ci serve del ferro Facciamoci degli scudi Cosa faccio? Tiro un colpo Poi paro Colpo Poi paro Eh, sì Perché tecnicamente Va Ho usato La pada Aspettare che finisca Il cosino E intanto che finisce Metti Qua sotto non c'è Assolutamente Mist E non facciamo Ok, mi sa che sono messi Molto bene Eh, i rossi sono messi bene Lo sapevo Era, diciamo Il team più avvantaggiato Perché Labcraft è forte Diciamo che I team più avvantaggiati erano Tesla e Vorace Quindi sono quelli un po' più fortini Eh, no Tesla e Labcraft sono i più fortini E Vorace è anche full vita Quindi Eh, eh Dev'essere full vita adesso Insomma Oddio, va detto che l'hanno recuperato Con un bug Però Però Alla fine E poi però non c'è Non volevo distruggere Dell'oro Così a caso Anche se non abbiamo una mela Eh, ma Tanto ce ne servirebbero Sei pezzi Quindi tanti Ok, manca un Io andrei a cercare Li stai fuori Prima che Vi spogli Vai, vai Andiamo in giù Andiamo in su Andiamo in su Tanto finisce adesso Il quinto episodio E poi Cioè manca un minuto a regola Se non ho fatto male i calcoli Sì, adesso adesso Ti rimbbero Dovevo mandare a prendere La lava? Abbiamo detto Eh, sì Vuoi andare a prendere? Vai, vai Adesso che è giorno Sì, vai La vado a prendere Potrei craftarmi Io un secchio Oddio È pericolosissimo Andare da sopra Però ci provo L'acqua la butto Non ho capito Se è giorno eterno Adesso no Perché Mi sa di sì Mi sa di sì Vedo che sta andando giù il sole Vediamo se riesco a vedere anche qualcosa Non vedo assolutamente nulla Solo foresta Bug nel linciato Eh, vabbè Ma lo nevica È così Fino il quinto Ah, ok Ragazzi Sono arrivato qua davanti alla Lava E adesso Che dire Vi saluto Nel prossimo È l'ultimo episodio L'ultimo episodio E ci sarà il deathmatch Adesso inizia anche il sesto Quindi è niente Vi saluto ragazzi Ci vediamo nell'ultimo episodio Ciao a tutti 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 Ciao a tutti